Ha fatto il suo arrivo a Bolzano attorno le 4 e 15 il Pullman proveniente da Napoli con a bordo 50 profughi che da quest'oggi saranno ospitati presso l'ex caserma Gorio di Via Macello. Tra questi 50 giovani donne e uomini anche bambini di cui alcuni in tenera età. Al momento non è ancora chiara la loro nazionalità. Ricordiamo che per permettere l'arrivo di questi nuovi profughi nella serata di ieri parte delle persone ospitate all'ex caserma Gorio sono state trasferite presso l'hotel Alpi a seguito di un accordo trovato dalla provincia con il proprietario dell'albergo René Benco. Problema non trascurabile al loro arrivo a Bolzano, questi ultimi 50 profughi dovevano ancora essere sottoposti ad accertamenti sanitari.